Consigliera Alessandrini, lei ha detto che è una brutta botta questa per i cittadini di Pescara perché l'amministrazione Alessandrini non ha mantenuto le promesse. Quali promesse? Esattamente, ieri c'è stata la prima delle commissioni dedicate alla valutazione delle osservazioni e quindi a valutare qual è stata la proposta dell'ufficio rispetto a queste. E abbiamo scoperto ieri purtroppo che tutte le richieste di modifica fatte dalla cittadinanza sono state bocciate dall'ufficio tecnico. In particolare non abbiamo trovato riscontro alle parole che il sindaco aveva annunciato, aveva fatto aveva detto durante la fase di votazione dell'adozione in Consiglio Comunale. Sto parlando della modifica delle tariffe della sosta, si è parlato tanto dei famosi 9 euro al giorno per parcheggiare l'auto nell'area di risulta. Il sindaco aveva detto che era una pura invenzione del Movimento 5 Stelle e quindi dell'opposizione, ma invece quella delibera e quella valutazione del tariffario è tuttora in corso e non è stata modificata attraverso nessuna osservazione tecnica che ha fatto l'ufficio o che ha proposto l'amministrazione. Si è parlato tanto anche del teatro che doveva essere situato all'interno dell'area di risulta attraverso lo spostamento dei fondi del Masterplan che dal Museo del Mare dovevano essere trasferiti e dedicati a questa struttura, ma di questa struttura continua a non esserci traccia. Secondo lei che cosa accadrà? Accadrà che la delibera molto presto verrà portata in Consiglio e come opposizione, come abbiamo sempre sostenuto, porteremo avanti la volontà dei cittadini e che quindi sosterremo le richieste che la cittadinanza ha fatto attraverso più di 4.000 osservazioni e poi si passerà i voti e vedremo quale parte della città, se la sparuta parte ormai di maggioranza del centro-sinistra o se l'intera città che attraverso le osservazioni, attraverso tutta una serie di manifestazioni di interesse aveva già bocciato questo progetto, vedremo appunto quale delle due parti della città avrà la meglio.